Ciao a tutti, come state? Sono sicura che in questo momento starete guardando tutti i Tg come faccio io di solito a quest'ora, però ci tenevo a fare questa diretta, oggi facciamo qualche minuto insieme, perché ho delle cose importanti da dirvi che riguardano la mia proposta, la mia, la proposta di tante persone, virologi, infettivologi, ma anche di diversi politici, di estendere l'uso dei tamponi. Allora, innanzitutto ribadisco l'importanza di fare i tamponi ai sanitari, al tutto il personale sanitario che in queste ore, in questi mesi, in queste settimane è esposto purtroppo al rischio di contrarre questa infezione al luogo di lavoro e credo che a maggior ragione lo dovrebbero fare anche le altre categorie di lavoratori come le forze dell'ordine e tutti coloro che in questo momento per necessità si stanno esponendo a un rischio che ovviamente non fa parte della loro, della caratteristica del lavoro che svolgono. E non stiamo parlando, come dicono alcuni detrattori dell'uso del tampone, di tutto alla popolazione, ma di fare una strategia mirata, anche perché, come ci hanno abbondantemente spiegato gli infettivologi, il virus si replica dove si può replicare. Ora, visto che stiamo tutti a casa, dove si può replicare? Nei posti che sono rimasti aperti e quelli che sono rimasti aperti adesso sono le strutture sanitarie e quindi è lì che in alcuni casi stanno avvenendo i contagi che in questa fase non riusciamo a controllare e anche, per esempio, diciamo in quelle categorie di esercizi commerciali che sono rimasti aperte e che hanno un personale che comunque è esposto. Allora, quello che dico io in realtà è quello che già sta facendo il Veneto, la Regione Veneto, e io sono assolutamente d'accordo con la strategia che ha messo in piedi Zaia, non perché io abbia una particolare simpatia, anche perché sapete benissimo che siamo di due partiti diversi, ma non credo che in questa fase qui bisogna guardare il colore politico, ma bisogna guardare alla sostanza. Allora, fino a qualche giorno fa c'era chi sosteneva a gran voce che estendere l'uso dei tamponi era contrario alle indicazioni internazionali date dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ora, udite, udite, oggi l'Organizzazione Mondiale della Sanità con una virata di 360 gradi, anzi di 180 perché sennò saremmo tornati al punto di partenza, ha detto no, facciamo i tamponi a tutti. Insomma, non mi sembra che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci abbia aiutato molto in questa fase storica. È pandemia, non è pandemia, non è influenza, oggi dice che è una malattia terribile che uccide tutti. Insomma, forse farebbero bene a cambiare portavoce, forse anche a cambiare comitato scientifico, perché mi permetto di dire che non abbiamo avuto un grande aiuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per quanto riguarda questa pandemia e lo dico convintamente prendendomi la responsabilità di quello che sto dicendo. Ma visto che finalmente è caduto anche questo grande muro di divieto che aveva messo l'Organizzazione Mondiale della Sanità di fare i tamponi in maniera più estesa, adesso dico io, poiché abbiamo tutti ben capito che questa quarantena non servirà a chiaramente bloccare totalmente il virus, ma ad appiattire la curva dei contagi per fare sì che le strutture sanitarie abbiano la possibilità di curare tutti e che chiaramente il minor numero possibile di persone si ammarino, ma non scomparirà. Quindi bisogna cominciare a pensare a delle strategie, io la chiamo la fase 2.0, cioè quella fase che verrà dopo la quarantena ma che può iniziare anche prima, con cui noi dobbiamo abbattere comunque la contagiosità di questo virus, perché non possiamo farci sconfiggere da un virus. Quindi io ritengo che l'idea di estendere l'uso del tampone in maniera mirata, strategica, lo ripeto, in maniera mirata, strategica, quindi non a tutta la popolazione in maniera indiscriminata, che non avrebbe senso, sicuramente ci aiuterà per la fase 2, cioè per la fase che verrà, e ci aiuterà chiaramente anche a potenziare l'effetto di questa quarantena che noi stiamo facendo, perché se io mi faccio la quarantena a casa, poi però chiaramente devo uscire, vado a comprare il pane, e magari la persona che sta lì purtroppo ha ricevuto un contagio da un asintomatico, per quale motivo non fare i tamponi a chi in questo momento sta lavorando alle casse del supermercato, come alla vendita della frutta o quant'altro. Mi sembra corretto sia perché queste persone si stanno esponendo per tutta la popolazione a questo rischio, a questo contagio, sia perché rischiamo di vanificare ovviamente lo sforzo, che stiamo facendo. Quindi finalmente è caduto questo grande muro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che diceva che non si doveva fare assolutamente i tamponi alle asintomatici, quindi per favore chiedo al Ministro Speranza di adoperarsi affinché assicuri a tutti i sanitariani, a tutti gli operatori sanitari i tamponi in luoghi di lavoro, così come a tutti i lavoratori sposti in questo momento a rischio, i rinclusi coloro che in questo momento stanno tenendo aperti gli esercizi commerciali per consentire a tutti noi di fare la quarantena in sicurezza. E questo è il primo messaggio. Il secondo, che è importante però, attenzione a non farlo manipolare e a non esagerarlo, c'è una cosa che è importante da comunicare. Oggi l'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, ha autorizzato uno studio sperimentale con un farmaco, Tocilizumab, scusate ma è molto complicato da dire, che ovviamente non è il farmaco terapeutico che curerà tutti i casi, però è un farmaco che si è visto dare dei risultati positivi su alcuni pazienti. Quindi è stato avviato un protocollo terapeutico, su 250 pazienti sono stati arruolati, individuando Modena e Napoli come città su cui effettuare la sperimentazione e quindi comincia anche lì un percorso, perché poi di pari passo naturalmente alla prevenzione, c'è appunto ad evitare il contagio, per fortuna va avanti la scienza per quello che riguarda la parte terapeutica. Quindi io lo so che è un momento difficile, tra l'altro noi adesso stiamo vedendo dei numeri ancora molto alti e non vi dovete spaventare, o meglio ci spaventiamo perché fanno paura, sì, però non sono questi numeri di ieri, sono numeri che risalgono a un contagio che è avvenuto almeno da 7 a 15 giorni fa, perché noi sappiamo che questo virus ha un periodo di incubazione molto lungo, quindi noi gli effetti di questa quarantena così massiccia li cominceremo a vedere tra 7-10 giorni e comunque ci saranno altri contagiati, quindi non ci dobbiamo scoraggiare pensando che non sia una misura efficace. Questa è oggi la misura unica e più efficace, però se ne possono mettere, ci devono integrare, ecco questa misura va, diciamo meglio, va integrata con altre strategie, di cui una di quelle che abbiamo appena descritto è appunto quella dell'uso mirato su alcune categorie di pazienti dei tamponi e ripeto, come già ha cominciato a fare la Regione Veneto. Io, l'ultima cosa, ecco perché me l'avete chiesta, sul discorso delle scarpe, dentro con le scarpe, esco con le scarpe fuori di casa, eccetera, anche lì è girato un audio e ho fatto terrorizzare tutti. Allora, oggi l'ha spiegato molto bene il professore Locatelli, il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, che era in conferenza stampa insieme a Borrelli. Allora ha detto, lo ha ribadito, il meccanismo principale di trasmissione sono le goccioline, cioè quelle che in questo momento mi escono a me parlando, i droplet, che vanno a finire sul mio telefonino e che quindi, diciamo, se fosse una persona e se io fossi contagiata, lo starei contagiando in questo momento. Quindi questo è il principale strumento o meccanismo con cui questo virus si trasmette. Perché? Perché il virus ha bisogno di una cellula, di cellule per vivere. Quindi quando va a depositarsi sulle superfici, sì che si depositano sulle cellule che abbiamo emesso noi, però chiaramente non sono più poi vitali nel momento in cui finiscono sulle superfici, per cui si abbassa molto la loro carica, diciamo, infettante, se così si può dire. Quello che è importante, come giustamente ha ribadito il professore Locatelli, è lavarsi spesso le mani. E' chiaro poi che tutte e tutte quante le misure di precauzioni di igiene, quindi levarsi le scarpe quando si entra a casa, il giubbotto magari farlo areare, areggiare se si è stato in un luogo affollato, ma in questo momento non ci sono luoghi affollati o comunque in mezzo di trasporto pubblico, perché signori miei, se io mi siedo in macchina, cioè non è che il mio giubbotto si può essere infettato in casa. E comunque non ci facciamo venire le angosce più di quelle che già non abbiamo, perché veramente non ha senso. Quindi continuiamo, perseveriamo, è l'ultima cosa, e poi veramente vi lascio, io vi chiedo questo, non usciamo di casa, ma se per caso ci rendiamo conto, uscendo perché andiamo a fare la spesa, che ci sono persone che nel caso del sud, parlo del sud, in questo caso particolare sappiamo che sono rientrate dal nord e non stanno osservando la quarantena, vanno assolutamente segnalate all'autorità giudiziaria. Quindi mi raccomando, teniamo duro che in qualche modo ce la faremo.